Qui non parlo fanatico, qui non si fanno prediche, ora vado via da solo, discepoli miei, anche voi andatevene da soli, andate via da me, guardatevi di me, ancor meglio, vergognatevi di me, forse vi ho ingannato. L'uomo della conoscenza non soltanto deve saper amare i suoi nemici, ma deve anche saper odiare i suoi amici. Si ripaga male il maestro se si rimane sempre scolari, e perché non volete sfrondare la mia corona? Voi mi venerate, ma che avverrà se un giorno la vostra venerazione crollerà? Attenti che una statua non vi schiacci. Voi dite di credere in me, ma che importa di me? Voi siete i miei credenti, ma che importa di tutti i credenti? Voi non avete ancora cercato voi stessi, ecco che trovaste me. Così fanno tutti i credenti, perciò ogni fede vale poco. E ora io vi ordino di perdermi e di trovarvi, e solo quando mi avrete tutti rinnegato, io tornerò tragoi. E ora io vi ordino di perdermi e di trovarvi, e solo quando mi avrete tutti rinnegato, io torno di perdermi e di trovarvi, io torno di perdermi e di trovarvi, io torno di perdermi e di trovarvi. Grazie a tutti.